Notte positive e qualche campanello di allarme dall'anagrafe delle imprese nel secondo trimestre del 2019. Tra aprile e giugno i registri delle Camere di Commercio hanno ricevuto poco più di 92.000 domande di iscrizione, dato in linea con quelli registrati nel secondo trimestre degli ultimi tre anni, a fronte di quasi 63.000 richieste di cancellazione, in aumento nell'ultimo triennio da parte di imprese esistenti. Il saldo del secondo trimestre del 2019, uno tra i meno brillanti dell'ultimo decennio, risulta pertanto positivo per 29.227 unità, ma più basso rispetto a quello dell'anno scorso di quasi 2.000 realtà. Sacce Simest, il polo dell'export e dell'internazionalizzazione del gruppo CDP e Promos Italia, la struttura del sistema camerale italiano che supporta i processi di internazionalizzazione delle PMI, hanno sottoscritto un'intesa che punta una maggiore collaborazione fra le due parti, con un obiettivo sfidante, migliorare la proiezione internazionale delle imprese italiane, aiutandole ad accedere ai prodotti, servizi ed esperienza delle due società specializzate nel sostegno all'export e all'internazionalizzazione. A giugno 2019 si stima una diminuzione congiunturale dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria dello 0,3%, mentre su base annua si stima una crescita pari a più 0,9%, lo rileva l'Istat. Sul mercato interno i prezzi alla produzione dell'industria diminuiscono dello 0,5% rispetto a maggio e aumentano dell'1,1% su base annua. Al netto del comparto energetico la variazione congiunturale è nulla e si registra un incremento tendenziale pari al più 0,6%. Nel 2017 la spesa per la pubblica istruzione è stata pari a 66,1 miliardi di euro. Lo rileva l'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. L'Italia è stata l'unico paese dell'Unione Europea in cui la spesa per interessi sul debito pubblico e altre spese collegate ha ecceduto quella per l'istruzione. I dati più preoccupanti riguardano l'istruzione universitaria. Mentre nel 2017 l'Italia riportava cifre in linea con la media europea per l'istruzione primaria e secondaria, si apre un grosso ridivario quando si considera la spesa per l'istruzione terziaria. Lo Stato ha speso infatti solo lo 0,3% del PIL per istruzione terziaria, nemmeno la metà della media europea dello 0,7%. In questa voce l'Italia è l'ultimo posto in Europa, a pari merito con il Regno Unito.